Buongiorno a tutti voi, bentrovati al TG2000, i temi oggi in primo piano. Coronavirus, nuove restrizioni in arrivo a rischio, Campania, Liguria, Abruzzo e Umbria e forse anche altre due regioni. L'Alto Adige sceglie di andare in zona rossa, l'ordine dei medici chiede di chiudere tutto il paese. Per fermare la pandemia adesso arriva il piano Biden negli Stati Uniti ma Donald Trump non si arrende, il suo staff lo spinge a riconoscere la vittoria. Dopo le bici tocca ai computer in corso il click day per ottenere il bonus su pc, tablet e internet. Incentivo fino a 500 euro ma non per tutti e lo sconto arriva sulla bolletta del telefono solo se si resta per un anno con lo stesso operatore. In apertura allora la situazione pandemia in Italia. Oggi pomeriggio potrebbe arrivare alle 15 l'aggravamento delle restrizioni per 4 o 6 regioni. 4 milioni di studenti tornati in dad e i medici senza mezze misure chiedono di chiudere tutto il paese. I servizi di apertura di Letizia Davoli e Pierluigi Vito. Vediamo. Meno positivi ma ovviamente come ogni fine settimana meno tamponi. 32.616 infatti i nuovi positivi al covid-19 di ieri domenica rispetto a quelli di sabato che erano quasi 40.000 ma i test eseguiti sono stati 191.000 contro i 231.000 del giorno precedente, 40.000 in meno. Dati che indicano che non c'è stato alcun calo nei contagi dal momento che il tasso di positività, cioè il rapporto tra positivi e tamponi, è rimasto al 17%. I numeri che per il quinto giorno consecutivo sono sopra quota 30.000 stanno mettendo in ginocchio la gestione della pandemia al punto che altre regioni potrebbero entrare in zona rossa. Come è successo ieri in Alto Adice dove il governatore ha deciso in autonomia da Roma di chiudere in lockdown l'intero territorio. A rischio altre 4 o 6 regioni che da zone gialle o arancioni potrebbero diventare rosse. Sotto osservazione Campania, Liguria, Abruzzo e Umbria. Sul tavolo anche la proposta di dichiarare zone rosse singole città come Milano, Genova, Torino e Napoli. Decisioni pesanti per l'economia del paese, prese su dati al centro di una bufera politica e sanitaria con pesanti scambi di accuse sulla gestione e comunicazione dei numeri dai territori. Tuttavia prevedere i primi effetti dell'ultimo DPCM sulla curva bisogna aspettare almeno qualche settimana ma non promettono nulla di buono le scene viste ieri in tutto il paese. Complice a una bella giornata di sole, migliaia di persone sono scese in spiaggia, nei parchi o sul lungomare, sedute ai tavolini di bar e ristoranti. E nulla di buono, promettono anche le immagini di pronto soccorso sotto pressione con lunghe code di cittadini impauriti che a volte non ricevono supporto dai medici di base. Chiusi in casa invece con la didattica a distanza 4 milioni di studenti italiani. Da oggi fino a fine novembre lezioni via internet per tutte le superiori e dalla seconda media per le zone rosse. La situazione che si prospetta da qui fino alla fine dell'anno è veramente drammatica. Se non ci saranno altri tipi di effetti avremo circa 10 mila morti entro 30 giorni. La fine di dicembre, in gennaio inizia l'epidemia influenzale. Come ogni anno, naturalmente in corso di epidemia, si esauriscono i posti letto. Immagini ora se i numeri dell'epidemia influenzale si sommano a quelli della pandemia, che cosa potrebbe succedere? Ogni letto che viene occupato da un paziente Covid è un letto sottratto ai malati ordinari, diciamo, quelli che hanno bisogno di fare un intervento, hanno bisogno di mettere uno stand perché cardiopatici e così via. Ci sono tanti che pensano che il problema sono solo la gestione del Covid. Non è solo la gestione del Covid, è la gestione dell'intera assistenza. Un sistema che viene messo alla corda così non potrà reggere. Il messaggio è oggi di rimanere a casa, di uscire solo se è necessario. Questo lo si deve fare con senso di responsabilità, ma è anche arrivato il momento che il governo organizzi un sistema che porti le persone a non incontrarsi, e cioè il lockdown. Adesso andiamo a Milano perché, come già accaduto a marzo, lo ricorderete, è tornato l'esercito a supportare gli ospedali e a testimoniare proprio la gravità della situazione in atto in questione. In diretta, allora, nel nuovo checkpoint clinico a Via Novara, lo vedete, ci racconta che cosa sta accadendo. Luciano Piscaglia, Luciano a te. Buongiorno da Milano. Siamo all'interno dell'area di valutazione allestita in Via Novara, la periferia occidentale della città, dalla protezione civile, dal 118, dalla regione e dall'esercito. Qui le ambulanze chiamate per sospetti contagi Covid sostano per una prima valutazione delle condizioni del paziente per decidere della sua eventuale destinazione in ospedale. Lo scopo è quello di alleggerire la pressione sui pronto soccorso dell'area metropolitana, dove la situazione è critica. Anche i dati di ieri lo confermano. I nuovi casi positivi sono stati 6.318, con una percentuale sui tamponi effettuati del 16,5%. E questa è una buona notizia che si spera sia confermata dai prossimi dati, perché indica un miglioramento della situazione rispetto a sabato scorso, quando la percentuale era vicina al 25%. In pratica era positivo un tampone su 4. Sono però saliti a 650 pazienti in terapia intensiva, mentre i posti letto occupati nei reparti Covid sono 412 in più rispetto al giorno precedente. Questo dato è il saldo tra le dimissioni, che sono state più di 1.400, e i nuovi ricoveri. In realtà quindi ai pronto soccorso Lombardi si sono presentati in 24 ore un migliaio di persone. E proprio per alleggerire la pressione almeno sui pronto soccorso dell'area metropolitana, da sabato pomeriggio è operativa questa struttura, che ha già accolto e valutato una quarantina di pazienti. Il coordinatore Giacomo Colzani spiega come funziona questo checkpoint clinico, poi la linea tornerà allo studio. Nell'area di valutazione, quella tenda verde, un medico o due infermieri che prendono in carico in maniera pressoché immediata il mezzo di soccorso che arriva. Tampone rapido e valutazione clinico strumentale, dove vengono prese decisioni, quindi non trattamento ma decisione. Che tipo di decisione? Un rinvio al domicilio o parecchi codici verdi covid correlati hanno comunque necessità di ospedalizzazione ed è proprio questo anche uno dei motivi per i quali attualmente i pronto soccorsi e gli ospedali dell'area metropolitana sono sotto pressione. Quindi qui i codici verdi valutati e se necessaria un'ospedalizzazione accompagnati con la flotta che vedete alle mie spalle venuta in supporto dal resto della regione su ospedali anche extra provinciali, attualmente meno sotto pressione. Qui abbiamo una sala operativa remota in costante contatto con l'unità di crisi di Areu e le altre sale operative del 118 e viene decisa l'ospedalizzazione più idonea. Purtroppo, lo dicevamo nei servizi d'apertura, c'è una parte del paese Italia che nel fine settimana non ha rinunciato a Movida e passeggiate nei salotti buoni della città. Allora, con Luigi Ferraiolo, il caso Napoli ma anche le chiusure a Salerno. Vediamo. E scontro tra sindaci in campagna. Il primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella, attacca il sindaco di Napoli De Magistris per non aver chiuso o limitato l'accesso al lungomare partenopeo nel fine settimana. Sono ancora gli assembramenti illegali a far discutere nella regione. Le immagini della folla a Napoli sono evidenti, come a Milano sui navigli prima del lockdown. Tanto chiare che a Pozzuoli e Salerno i lungomare sono stati chiusi, come suggeriva il governatore campano Vincenzo De Luca. Mastella è tagliente in un post su Facebook. Chiede a De Magistris di non fare calcoli elettorali, di chiudere quanto altri hanno chiuso e di assumersi le sue responsabilità, altrimenti le zone interne chiuderanno i loro ospedali a chi viene da Napoli. Per contrastare gli assembramenti, a esempio, il sindaco di Pomigliano ha stabilito il coprifuoco per i minorenni dopo le 18, se non accompagnati da un adulto. Questo non è il momento di scherzare, che siamo in una situazione molto delicata, con una curva dei contagi che sta crescendo e che sicuramente dobbiamo fare di tutto, come amministrazione, ma soprattutto a partire dai cittadini stessi, per cercare di arginare questa situazione che ormai sta diventando terribile. Avanti con le responsabilità della politica, perché in queste ore si infiamma dunque il dibattito sulle decisioni da prendere per fronteggiare la grave emergenza. Durissimo il braccio di ferro con le regioni. Ci aggiorna Augusto Cantelmi, sentiamo. Il governo non è andato mai in vacanza, non abbiamo mai mollato la presa. In una lettera al quotidiano La Repubblica, il presidente Consiglio Conte difende l'operato dell'esecutivo, criticato per essere stato preso di sorpresa dalla seconda ondata della pandemia. Non mi sono mai allontanato da Palazzo Chigi, anche nel periodo più caldo di agosto, aggiunge il presidente del Consiglio. Nella pomeriggio nuovo vertice tra ministro della Salute e tecnici delle regioni per stabilire quali saranno le nuove regioni che dalla zona gialla finiranno in quella arancione o rossa. Sotto osservazione sono sei regioni in base all'evoluzione dei dati giornalieri, rapporto ai 21 parametri individuati sia per definire il grado di contagio locale, sia per le risposte dei medici dei territori. Le oppositioni invece insistono nel criticare il governo, soprattutto in queste ore, nella gestione del caso del commissario per la sanità in Calabria. Mentre per Berlusconi la responsabilità dell'esecutivo è stata quella di farsi trovare impreparato il leader di Forza Italia, che tuttavia apre al confronto con la maggioranza, a cominciare dalla legge di bilancio che arriva in settimana in Parlamento. Dall'Europa invece il commissario economico Gentiloni sottolinea l'importanza del piano europeo per l'emergenza lavoro, sure. Ma cerchiamo di non illuderci sul fatto che l'attenuazione di questo impatto possa eliminare l'impatto sociale sull'occupazione che una crisi di questa profondità avrà. Ora la situazione nel resto del mondo, la pandemia infrange un altro record, superati 50 milioni di casi nel mondo ed è proprio l'Europa il continente più colpito con oltre 12 milioni di contagi confermati, tanto che precede addirittura i casi registrati in America Latina. In Francia resta la chiusura totale perché l'emergenza è altissima. In Germania le chiusure parziali sembrano non portare ai risultati perché i contagi continuano a salire e da oggi anche Polonia e Grecia si blindano mentre da stasera anche in Portogallo scatta dunque il coprifuoco notturno. Restiamo all'estero però vogliamo negli Stati Uniti per le presidenziali con Donald Trump che continua a non riconoscere la vittoria di Biden per la quale invece festeggiano le borse mentre il nuovo eletto comincia a formare la squadra di governo. Massimiliano Niccoli Niente da fare, non è bastata la moral suasion di famiglie e staff. Donald Trump va avanti con la sua battaglia legale contro i presunti brogli e fra una partita di golf e l'altra prepara il contrattacco ma con il passare delle ore fedelissime repubblicani provano a smarcarsi per evitare ulteriori tensioni. Imperturbabile Biden la cui sfida più delicata sarà proprio quella volta ricompattare un paese diviso a metà. Sarò il presidente di tutti affermato nel suo primo discorso da vincitore e intanto prepara la sua squadra di governo. Con la sua vice Kamala Harris sta ultimando le scelte e mentre impazza in America il totonomine cosa certa è che un paio di posti saranno riservati ai repubblicani proprio per evitare scontri. Circolano i nomi del senatore Mitt Romney, dell'ex governatore John Kasich e di Chuck Hackel che potrebbe tornare al Pentagono come i tempi di Obama. Ambita la poltrona di segretario di Stato. Nell'elenco fra gli altri figurano Samantha Power, già rappresentante americana alle Nazioni Unite, William Barnes, ex vice segretario di Stato e Tom Donilon, ex consigliere della sicurezza nazionale. Un governo che guarda al centro ma che nello stesso tempo non deve scontentare la sinistra DEM, un bel mosaico. Nel frattempo però le borse festeggiano come buona parte dell'Europa, Italia compresa. Con l'eliminazione dei DATS infatti sarebbero diverse le aziende nostrane favorite dalla svolta. Ci riporta in Italia il click day per computer, tablet e connessione internet. Si può chiedere da stamattina bonus fino a 500 euro. Il pc resta poi di proprietà dell'utente ma è necessario un modulo per avere diritto allo sconto. Ci spiega come fare Leonardo Possati e lo ascoltiamo. Alla fine arriva il giorno tanto atteso da quegli italiani che vogliono utilizzare il bonus pc da 500 euro. Attenzione però perché la richiesta deve essere presentata ai gestori telefonici che hanno aderito all'iniziativa accreditandosi nei giorni scorsi e non su siti istituzionali. In questo caso infatti non si tratta di un voucher da riscattare dopo aver fatto l'acquisto ma di uno sconto. Per aderire bisogna riempire l'apposito modulo di autocertificazione in cui si dichiarano le proprie generalità e di essere in possesso di un ISEE fino a 20.000 euro allegando anche un documento di identità e il codice fiscale. Dopo aver effettuato la richiesta però non si saprà immediatamente se si è ottenuto il bonus. L'operatore dovrà infatti verificare la disponibilità di risorse economiche prima di dar seguito all'attivazione. Nel contratto potranno essere compresi una connessione banda ultralarga di rete fissa ma anche un tablet o un pc. Questa misura, pensata dal governo, si rivolge a famiglie e imprese che devono dotarsi di strumenti tecnologici per sostenere una vita in smart working o in didattica a distanza e ad oggi, essendo in difficoltà economica, non possono farlo. Parliamo adesso dell'ultimo saluto a Stefano Dorazio scomparso nella serata di venerdì. Si svolgeranno oggi pomeriggio i funerali del batterista di Pù presso la chiesa degli artisti in Piazza del Popolo a Roma. La cerimonia sarà in forma privata ma a rendere omaggio a nome di Roma Capitale sarà presente anche un rappresentante della sindaca Virginia Raggi perché anche lei è positiva al Covid. Il feretro arriverà in chiesa dopo un corteo funebre che partirà intorno alle 14.30 dal Campidoglio, passando per Via dei Fori Imperiali, Piazza Venezia, Via del Tritone, Piazza di Spagna e poi scortato appunto dalla Polizia Municipale fino alla chiesa degli artisti. Noi ci fermiamo qui. Vediamo insieme le previsioni meteo dell'aeronautica militare per questa che sembra un'estate senza fine. Il TG2000 torna alle 18.30. Grazie per l'attenzione. Buona giornata.